L'8 settembre del 43 e gli eventi che ne seguirono rappresentarono per molti italiani la fine drammatica di una illusione, con la dissoluzione dello Stato, i morti, i feriti, le gravissime sconfitte militari. L'Italia era precipitata in una lenta e terribile agonia. Il Re era fuggito a Brindisi, abbandonando Roma al suo destino. Le truppe germaniche avevano invasso il territorio nazionale, seminando ovunque terrore e morte. A Salò si era insediato un governo fantoccio, totalmente nelle mani naziste. Fu in questo contesto che molti italiani, donne e uomini, giovani e anziani, militari e studenti, di varia provenienza sociale, culturale, religiosa e politica, maturarono la consapevolezza che il riscatto nazionale sarebbe passato attraverso una ferma e fiera rivolta, innanzitutto morale contro il nazifascismo.